Emergenza Covid, i dati permangono alti. Si lavora sul fronte ospedaliero sia per sopperire alla carenza di posti letto su scala provinciale, sia per dare risposte alla città che oggi detiene il primato delle mortalità e dei contagi. Il polo Covid di Rossano ha 38 posti letto, 6 di semi-intensiva e 4 di terapia intensiva. In via di istituzione altri 12 posti di medicina ed urgenza. Il problema è sulla dotazione organica, intanto sono in arrivo 4 pneumologi. Abbiamo fatto un avviso, ma a tempi celerissimi, venerdì si conclude questa manifestazione, subito, graduatori, immediatamente, quando è più pneumologi, perché sono importanti in questo periodo. Per il sindaco Flavio Stasi oltre non si andrà. Questo è il massimo che il nostro SPOC può dare. È stato detto con chiarezza nell'incontro dell'altro ieri a tutte quante le istituzioni sanitarie. Sono stati fatti dei lavori importanti, questo va bene, sono stati inviati 4 medici e 11 infermieri in più, questo va bene. Ma questo è il massimo che si può chiedere dal nostro SPOC. L'aggressività del virus è causa dell'impennata dei ricoveri. Purtroppo l'epidemia che dilaga un pochettino perché le forme di virus attualmente circolanti sono in prevalenza l'inglese, però abbiamo tutta una serie di altre varianti che circolano in Calabria. E questo ha comportato il problema che ha riguardato soprattutto Corigliano Rossano.